LoL pack finalmente è uscito Vediamo un po' Chiamiamolo YouTube solo perché così me lo ricordo io I cheat non li vogliamo La chest si In genero strutture si Il seed LOL banalmente così potete anche copiarlo voi magari a casa Il link comunque è in descrizione La creazione del mondo è almeno le prime volte non è proprio velocissimo Sembra che vada più veloce del solito Meno male Sono stati risolti parecchi bug dalla scorsa versione Le mod sono praticamente tutte cambiate Non c'è la Ney C'è la crafting guide ma la Ney no perché La consideravo quasi un cheat Cioè potevamo usarla come too many items Ovvero il give gli oggetti Mentre adesso invece con Con la crafting guide no Anche perché non mi sono sbattuto tanto per farla andare Perché dopo un paio di problemi la Ney quindi Perché fare tanti casini quando è un cheat Quando possiamo caricare benissimo la crafting guide Rieccoci Scusate un crash Non è il pacchetto Sono io È il mio È il mio computer quindi non fateci caso Allora La matmos Mi sta taggiando a fastidio E Difficoltà mettiamo normale Ok Vediamo la minimappa Di là Dovrei prendere del legno prima di tutto Questa versione Mi raccomando Perché crash? Sto laggando Ok Cos'è? Un occhio di ragno Va bene Ok Stavo laggando Perché stavo creando il mondo Perfetto La damage indicator è molto comoda Sì ma pugni Gli faccio uno Quindi infatti vedete Ok Prendiamo un po' di legno Ok Come tutti gli inizi ovviamente L'occhio di ragno non ho idea di dove l'ho preso Però mi fa piacere Anche perché Sopra G Si può fare la router flash Anche qua Router flash Router flash Tutto si fa con la router flash Niente Non va giù Ok Ehm Perfetto Router flash Ci servirà parecchio Come la pelle No Cambiato oggetto Cambiato Ok Sapling Perché Si brucia bene Un pollo Lo facciamo Ok Mi servirebbe anche Della lana Tanta lana Tanta lana E tanta pelle Serve E legno ovviamente Ma il legno È un classico di minecraft Ok Scusate Sì Anche questa mod È molto bella Del menu Semplificato Alleggerisce un po' Uuu Gli alberi belli No Di là c'è quel deserto Perfetto Come notate C'è la extra biome Frizza perché Sta creando il mondo Perché C'è un Bel po' di mod Nella Generazione del mondo Via Via C'è anche la Mucreators L'orso Oh mamma Non era il modo Più bello Per incontrare Un orso La prima volta Ma va bene Non mi seguo Perfetto Oh Posto bellissimo E è un orso Ma porca miseria Dobbiamo stare attenti Un po' a tutto Lì c'è Dungeon Ci sono parecchi dungeon qui Quindi Sempre pronti Questi alberi qua Potrei prendermi Bello Di solito però In quelle montagne Non è detto che ci sia Del carbone È raro che ci sia Però Preferirei Ah è short Ok al massimo Devo rifarmi almeno una casa Mi serve del carbone Cavola Arrivo davvero in alto Ok Ancora questo Perfetto Qui un saple Mi sembra Neve Ghiaccio Sì Questa è neve E calda Niente Oh Una zucca Una zucca Ci possiamo fare Mmm Bella cosetta Zucca Grazie Altra zucca Non mi sono ancora fatto Gli attrezzi Perché? Perché sono furbo No sono stupido Allora Prendiamo questo Facciamo il minimo possibile Ok E qui Qui Ci mettiamo Due stick E ho finito il legno Perfetto E già che ci sono Ho il legno apposta Facciamo Questa Perché? Perché c'è una mod Molto simpatica E molto utile Ovvero la Tricapitetra Giungla Giungla Vuol dire A parte che sono In short Vabbè Da i 30 fps Vabbè Si sta registrando Vabbè Ma per vedere Abbiamo questa qua Mmm Dungeon Non ce ne sono Uh Questo si Mi interessa Strano che ci sia Un buco del genere Quindi Facciamo attenzione Vediamo un po' di pietra L'inizio è sempre così Per quello Questa è la parte zero Ovviamente Da un momento all'altro Il video potrebbe terminare Perché io registro magari anche un'ora E poi Tutto insieme Le divido Quindi magari siamo già alla puntata 1 No 8 minuti non penso La zero solo per la presentazione E per fare tutto quello Il noioso Diciamo Non dovrei correre Uh A vero Carbone No Non ci sono minerali strani Per il momento Magari in un futuro Non tanto lontano potrei mettere E buttiamo giù Perfetto Mele Mele sono importantissime Queste per bruciare Una mela lì sotto Perfetto Anche questo di albero Dai 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 che arriva la notte Perfetto Mele No però sapling Che fanno sempre Comodo Allora Queste bellissime Stalactiti Stalactiti Non so cosa sono Non ho carbone Mi serve carbone Uccellini Scusate Telefono Allora Qui Pietra Di pietra Non ne abbiamo mai abbastanza Mi servirebbe però Tutti i costi Almeno la lana Per la prima notte Per passarla subito Poi non penso Che dormiremo di notte Qui Minui caverna Carbone dai Un pezzetto Di carbone Che Taccagni Carbone Oggetto che si trova Di più in minecraft Si arriva anche a un punto In cui il carbone Non serve praticamente Più a niente Non frittare Qui Ben nascosto Niente Ragazzi Non chiedetemi I nomi delle mod Perché non me le ricordo Molte Vediamo subito Se c'è No Però di là Mi sembra una pianura Quindi si può andare Di là Non starò fermo Nel senso Il caso Non costruirò Anche perché Non c'è molla Per costruirmi la casa Anche perché Se costruisco una casa La voglio Bella E grossa Ok Un po' noioso Sta parte Però Oddio Albero Dalla giungla Ok Sapling E via Da questa parte Di là La pianura La pianura Il bioma Più bello Che c'è Devo anche mangiare Aia Non posso Non posso Permettermi Di farmi male Ah Ehm Dead point Attivati Perché Prevedo Di morire Tante volte Questo è molto Molto bello Topi Qui c'è la pianura Che interessa a me E qua sotto Carbone No No eh Sì Aragnatela Normale Una mod Che la mette Per abbellire un po' La montagna Diciamo Cosa è finito Il piccolo Il legno Non è veloce Ma mi serve Per forza Ok Qui Lo consumiamo Dai I livelli Per il momento Non mi interessano I livelli Quanto carbone ho? Sette Mi è preso ancora Uno o due Allora Sto muraglio Però mi sta già Andando fastidio Dai cavolo Non la farai mai In hardcore C'è una serie in hardcore Purtroppo da me Non la vedrete quasi mai Quasi Perché ho detto Magari Non si sa In un futuro Qua è buio Ehm No No Qua vicino No Ma porca miseria Infatti Dungeon del cavolo Oh bello Sto montagnetto Prima che spawni Gente Questo qua Bello il legno Perfetto Facciamo anche la casa Di due colori Mamma mia Che costruttore A me preoccupano I mob aggressivi Della MoCreators Più che altro Ecco Ho sbagliato Dannazione Ok Torce 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 Perché uso questo Ma guarda che sono proprio Un affare Tutte Eh vabbè Mod A dynamic light Anche Ovvero Faccio luce con gli oggetti Con i mano E me ne manca uno Bello che ce l'ho anche sotto Vabbè Ok Questo è il primo rifugio Per la notte Devo mangiare E se me le non danno Un tubo No Un cuosciotto e mezzo Aspetto Allora Allora Crafting table No L'occhio di ragno Non lo mangio Fossi matto E Una fornace Hot topic Il gioco lo tengo in inglese Perché non vorrei mai Che arrivassero Problemi vari O cose Quindi lasciamo Lo lascio così com'è Cuocciamo un po' di questo Ma Lo tiene Ah si è vero Ovvio Che stupid Allora C'è anche 40 sapling Oh Sapling Con questo cosa si fa? Uh La minimum stone Per fare questo Mmm Mi interessa Allora Ok Vediamo subito Vediamo un po' Che mod ci sono No Claire Blocchi Il fuoco Che mi sembra Che si possa trovare La stone Questa non ci interessa I biscotti Jack o' Lantern Non serve a niente Non ce ne frega niente Uh La torta di zucca Mi servono le uova ancora Zuppa di funghi Magari la farò Pelle 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 Mmm Questo è il classico Andiamo avanti Oh Eccoli qua Earth container Già signori Lana nera E i due ferri Poi li troverò Questi poi ci interessano Che li faremo molto Presto Eccoli qua Gli zaini Creeper bike Essential light Questi belli Le tuniche Eh si però Devo andare nel nether Il filo Il filo Dimmi che No eh Input e output Non c'è il filo in output Sì La lana bianca Dannazione Lana bianca Grazie a tutti